Guarda gli fa paura! No, favoloso! Ma tu sei fai? Sì! Guarda tutti via! Ha visto? Gli fa paura, gli manda viva! Gli fa mangiare, se non è roba! Guarda, lui è birbo! Eh, amore, non è mica birbo, sai, è la natura! Lui c'ha fame, qualcosa deve mangiare! Perché no, non vuoi! Eh, che no, muore! Eccolo! Ora riparte, eh! Gli riparte la bambola, guarda, eh! Rimette la testa sotto, fra un po'! Guarda, 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 guarda! Non è venuti via! E gli fa paura! Guarda, guarda che paura hanno! Fai, guarda, guarda! Poi uno lo piaffa, forse, no? Glio, perdura! Con furbiasi questo lino! Mi burbi! no che spettacolo grande corborano grazie per lo spettacolo hai visto marta qua sono tutti illuminati dal sole quindi brillano ma che bellezza si può venire anche quella bicicletta qui ovviamente per il momento non l'abbiamo preso si che spettacolo vedi ora è qua il colmurano che si sono spostati tutti eccolo arriva e amore rimane mi sa eccolo sotto pesci l'eurea guarda è morto ecco 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 ma santi sono è bellissimo quindi lui pensa ci sia il coso che guarda come va eccolo lì lo vedo no favoloso eh che spettacolo grazie Orborano grazie Orborano per questo spettacolo questo è Dungengeo davvero dove è ora? arriva a fare un lucciore sarebbe per me oi che lanciano vedi il pesce finto e pesca il lucio no io ho visto lanciato prima